ecco tengo fermo in questo video vi presento un metodo molto molto bello che si chiama origine e parto subito con presentarvi l'ambata sicura di questo di questo metodo che praticamente con un solo numero tratta di un solo numero su una singola ruota le condizioni sono sono praticamente frequentissime quindi c'è l'imbarazzo della scelta si parte subito con l'ambata sicura è un gioco molto speculativo e vorrevo ricordarvi subito che un numero solo su una singola ruota equivale ad un ciclo di 18 estrazioni teoricamente ripeto teoricamente dovrebbero esortire tutti quanti ma naturalmente sappiamo che non è così quindi per me il ritardo invece equivale quando in due cicli quindi 36 estrazioni circa tre mesi equivale a un ritardo quindi l'unica cosa che dovete stare attenti in questo in questo metodo e che non ci siano numeri ritardatari e di condizioni stavo dicendo ce ne sono molte parecchie e questo è la base l'origine per per future sorti quindi seguitelo perché veramente oltre questo penso che non troverete niente stiamo parlando di un numero solo su una singola ruota quindi seguite questo metodo perché veramente bello ciao e un abbraccio a tutti quanti e seguitemi tutte le cifre che compongono un numero sommate tra loro fanno capo tutti a uno dei a una sola cifra a uno dei nove numeri e quindi noi dobbiamo cercare nelle estrazioni in qualsiasi estrazione due numeri che fanno parte della stessa colonna della tabella figurale come si vede qua in figura quindi trovate i due numeri che fanno parte più o meno sono della stessa decina più o meno in questo caso 6 e 8 6 più 8 fa 14 e poi 1 più 4 uguale 5 così in ordine come sono e poi abbiamo il 65 6 più 5 uguale 11 uguale 2 e si mette in gioco il 52 su bari come si vede e qua nello schema il ciclo teorico di un solo numero su una sola ruota equivale a circa 18 estrazioni e come sempre adesso andiamo a vedere sul lato pratico dentro al quadro estrazionale come funziona come estrarre i numeri naturalmente faccio vedere subito il periodo di prelevamento per così dire naturalmente è inutile che vi dica che quando un metodo funziona non ha né tempi e neanche ruote particolari magari forse la ruota particolare ci può essere ma è una cosa solo temporanea quindi vediamo è come si opera all'interno del quadro estrazionale io mi sono preparato come si vede una tabella con il quadro figurale questa qui che in giallo vedete i numeri i 90 numeri con i corrispondenti quindi come si vede per esempio l'11 appartiene alla figura 2 è stato già detto diverse volte e quindi 1 più 1 uguale 2 eccetera eccetera quindi questa è la cartella è la tabella e ce la teniamo qui quindi come si opera guardate per esempio avendo trovato in una certa posizione delle estrazioni siamo a venezia sulla ruota di venezia e vediamo l'88 e l'89 l'88 e l'89 sono attrezzato di una riga rossa si trova in questa colonna quindi l'unica l'unica cortezza l'unica cosa caratteristica che devono essere dentro la stessa colonna che vedete il rosso quindi questa è la colonna quindi l'88 e l'89 così in ordine così come sono è 78 quindi figure 7 l'88 e figura 7 e l'89 figura 8 messi insieme diventa 78 sono cose che ho già ripetuto per l'ultima volta lo ripeto e quindi 78 esce al 14esimo colpo volevo anche ricordare che la media di un numero su una singola ruota equivale a 18 estrazioni andiamo avanti sempre su questa ruota di venezia per fare degli esempi quindi 56 57 56 57 questa è la colonna vedete 56 57 quindi diventa figura 20 figura 2 figura 3 diventa 23 23 esce al dodicesimo colpo eccolo qua quindi siamo sempre dentro la media dei 18 colpi e andiamo avanti quindi 19 12 19 12 e 13 al settimo colpo 41 44 41 44 41 44 41 44 eccola qua questa è la colonna 41 e 44 abbiamo 58 58 58 esce un suo vertibile e sospendere subito il gioco comunque volevo anche ricordare che sto parlando di un numero singolo su una singola ruota quindi sto escludendo quindi sto escludendo addirittura i suoi vertibili provate a immaginare la potenza con il suo vertibile e penso che non ci siano uguali quindi andiamo oltre 11 e 15 26 al primo colpo poi andiamo oltre 77 75 53 al primo colpo e poi abbiamo il 77 abbiamo detto 53 42 40 64 e ogni tanto vi faccio vedere la colonna che è questa 42 e 40 64 questa è la colonna e ripeto per l'ennesima volta che i numeri devono essere nella stessa colonna quindi 64 che esce il tredicesimo colpo 64 eccolo qua si poi abbiamo ancora 51 e 52 67 terzo colpo poi abbiamo il 67 e notte che vi faccio vedere ancora le colonne mi sembra che a sto punto tutti hanno capito quindi 51 e 52 67 che esce il terzo colpo poi abbiamo il 67 66 qua 43 43 esce al settimo colpo poi abbiamo ancora il 12 e il 14 35 che esce al dodicesimo colpo andiamo a vedere 35 poi abbiamo 76 79 47 che esce al terzo colpo volevo farvi vedere anche qualche caso negativo poi abbiamo 77 75 53 esce al terzo colpo 35 33 primo colpo 86 primo colpo ecco il 45 è un caso non pervenuto quindi un caso negativo è giusto farvi vedere anche questo però se fate una media veloce capirete che su 12-13 condizioni di numeri positivi una risulta negativa è giusto dirlo naturalmente ripeto e vi ripeto ci tengo a dire questa cosa che stiamo parlando di numero singolo senza tener conto del suo vertibile che c'è sempre anch'esso quindi è un metodo assolutamente potentissimo quindi andiamo a vedere anche su un'altra ruota in questo caso Roma per farvi vedere anche come funziona anche in altre situazioni anche in altre ruote quindi 74 e 76 24 che esce al sesto colpo il 57 86 e 88 uguale 57 che esce al 1, 2, 3, 4, quinto colpo 47 no 57 è il sesto colpo 47 esce anch'esso anche lui poi abbiamo il 62 in questo caso il 6 il 60 con il 56 è il 62 esce al diciottesimo colpo e siamo sempre dentro quella linea temporale teorica che è quella dei 18 colpi quindi abbiamo ancora il 88 l'86 75 al quattordicesimo colpo comunque signori penso che avete capito il sistema il metodo come operare e avete adesso tutti gli strumenti per poter fare questo tipo di gioco di ambata con un numero singolo su una singola ruota con questo è tutto vi saluto alla prossima seguitemi e